Andiamo adesso a parlare dei numeri per quanto riguarda i contagi da Covid-19 in Sicilia. Sono 970 i nuovi positivi, 85 in più quindi rispetto ai numeri del giorno precedente. In provincia di Siracusa i nuovi contagiati sono 84 in netto incremento rispetto ai 26 del giorno precedente. Si ricorda che questi sono i dati usciti ieri pomeriggio come appunto evidenzia il bollettino del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto al dato precedente vede un decremento complessivo di due unità così come riporta appunto il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 229 persone, due in più rispetto al giorno precedente. Il dato dei guariti è pari a 1.456 persone, sono 36 i decessi. I tamponi rapidi processati sono stati 9.947, i tamponi rapidi invece 13.632. Questo il report dei contagi nelle province 72 a Grigento, 36 Caltanissetta, 188 Catania, 2 Enna, 104 Messina, 308 Palermo, 14 Ragusa, 84 a Siracusa, 162 a Trapani.